Allora, lo speech che vi porto oggi è un po' particolare, è un argomento che sta diventando sempre più interessante, se ne parla sempre più spesso in ambito marketing, perché in effetti è un argomento nuovo all'interno del marketing, soprattutto della comunicazione. Oggi vi vorrei parlare di questo argomento che appunto è il neuromarketing applicato all'email marketing. Vedrete che la maggior parte del webinar in realtà parlerò di concetti generali che possono essere applicati in realtà non solo all'email, ma anche a tutti i vostri asset di comunicazione, però verso le ultime slide vedremo come applicare questi concetti proprio alle campagne email. Il webinar è strutturato in questa maniera, molto semplice, quindi parleremo in una prima parte di come le neuroscienze influenzano il comportamento dei clienti, come nasce il neuromarketing, da dove arriva e come si struttura. Passeremo poi a vedere appunto come il neuromarketing può migliorare le performance delle vostre campagne email e poi lascerò spazio appunto alle vostre domande. Innanzitutto partiamo col dire che cos'è il neuromarketing. Neuromarketing. Questa definizione mi piace particolarmente, poi non me la ricordo a memoria e quindi me la sono messa per iscritta ed è quella che vedete. Neuromarketing è un complesso di tecniche di marketing che sfruttano le scoperte, le metodologie della psicologia e delle neuroscienze per capire e influire sui processi decisionali dei consumatori che sembra una roba veramente complicata, sembra una roba quasi come a dire che andiamo a traviare i consumatori che in qualche modo li inganniamo. In realtà diciamo che la conoscenza di queste tecniche è molto utile per capire come già oggi i consumatori scelgono i prodotti da acquistare, come già oggi ragionano e si attivano nella ricerca di informazioni di prodotti. Il conoscere ovviamente le tecniche, la storia, gli strumenti che vengono utilizzati ci aiuta sicuramente a comprendere meglio come noi lavoriamo, come ragioniamo, come consumatori perché noi in primis, è vero che queste cose le sappiamo, ma noi in primis ogni volta abbassiamo le nostre difese di consumatore e cadiamo vittima di tante strategie che in realtà a volte sono anche molto interessanti. Il neuromarketing oggi in realtà nasce già negli anni 70 ma alcune teorie a base del neuromarketing nascono con il neuroscienziato Paul McLean negli anni 60 ma in realtà il grosso, la ciccia vera la stiamo vedendo oggi. Perché? Perché oggi abbiamo a disposizione degli strumenti che ci consentono di indagare più profondamente il consumatore sia da un punto di vista cerebrale sia da un punto di vista proprio di comportamento piuttosto che di analisi facciale e altre cose. Tra questi strumenti vale la pena ricordare sicuramente la risonanza magnetica funzionale che è un macchinario da risonanza magnetica quindi occupa lo spazio di una stanza ed è uno strumento molto interessante perché consente con estrema precisione di capire quando un consumatore è sottoposto ad uno stimolo esattamente qual è l'area del cervello che si attiva appunto quando il consumatore è sottoposto a quello stimolo. Un'altra cosa importante, un altro strumento importante è l'eye tracking cioè è uno strumento che consente di capire su cosa si poggiano gli occhi di un consumatore quando viene sottoposto ad un volantino pubblicitario, ad una pubblicità oppure viene sottoposto ad uno stimolo di marketing in generale. In particolare l'FMRI, quindi la risonanza magnetica è uno strumento interessantissimo perché ad esempio ha permesso di scoprire che i centri del cervello che si attivano quando un utente si trova nel mezzo di una transazione o di una contrattazione quindi anche quando siamo davanti allo scaffale e dobbiamo decidere se acquistare un prodotto piuttosto che un altro, nel nostro cervello e a nostra insabuta si attivano i centri del dolore cioè gli stessi centri che si attivano quando appunto percepiamo un dolore fisico e questa è una cosa molto importante perché poi ci sono delle tecniche che consentono di andare a minimizzare questi centri di attivazione, questa attivazione dei centri del dolore in modo tale da rendere le transazioni più fluide e la contrattazione più veloce. Un esempio classico e non ha a che fare con il mondo dell'email marketing che è stato sfruttato proprio in questo senso è ad esempio il meccanismo, il modello di business legato all'All You Can Eat, nel senso che il tema di andare al ristorante e guardare il menu, i prezzi e fare già capire un po' che cosa uno si può prendere, che cosa no perché deve fare i conti con i soldi che ha in tasca è una forte limitazione alla libertà dell'utente di acquistare o nel peggiore dei casi di recarsi al ristorante quindi i ristoranti che applicano la formula All You Can Eat sostanzialmente stanno dicendo al consumatore o anzi ancora meglio stanno dicendo al cervello del consumatore non ti preoccupare, mangi quello che vuoi, il prezzo è fisso 25 euro mangi tutto il sushi che vuoi, questo è un po' il senso. Un altro modo in cui si evita l'attivazione di questi centri del dolore quindi di questi campanelli di allarme che fanno presagire appunto la presenza di una contrattazione è l'invenzione della carta di credito. La carta di credito è uno strumento molto importante, molto utile però di fatto nel momento della transazione non ci dà evidenza del fatto che ci stanno uscendo dei soldi dal portafoglio e quindi probabilmente comprare con la carta di credito è una cosa che viene quasi naturale strisciare la carta, ma sì tanto non lo sto spendendo, non ci sono dei soldi che escono dal portafoglio ecco anche in quel senso appunto lo strumento appunto dell'FMRI ha permesso di andare ad analizzare queste situazioni andare a capire che si attivano queste aree e quindi il marketing poi ha tratto tutto il beneficio di questa ricerca trovando dei modelli di business che permettessero appunto di evitare che queste aree si attivassero. Un'altra cosa importante ed è l'unica relativamente a questa slide ma è per farvi capire l'importanza della risonanza magnetica funzionale è che ha permesso anche di scoprire che le aree del cervello che si attivano quando si parla dei nostri brand preferiti sono le stesse aree che si attivano quando si parla della nostra fede religiosa o comunque del nostro senso di religiosità. Perché vi racconto questo? Perché ad esempio Apple ha fatto una cosa molto interessante in questo senso gli utenti Apple oggi non sono semplici consumatori del prodotto Apple ma io li definerei addirittura adepti si assiste sempre a utenti Apple che sono pronti a difendere i loro prodotti contro chi gli dice che Samsung è meglio, che Xiaomi è meglio e c'è quindi quasi questa guerra dell'utente Apple contro il mondo. Ecco, Apple è un brand che è stato molto bravo a costruire non vorrei dire un'eresia ma una religione intorno al brand i consumatori sono veramente consumatori fedeli questo ecco giusto per farvi un po' capire l'importanza di questo strumento e questa è un'altra domanda molto importante sì ok, oggi abbiamo il neuromarketing ma di fatto il mondo è andato avanti anche senza il neuromarketing sì è vero, in passato ancora oggi alcune tecniche vengono utilizzate senza avere alcuna contezza che funzionano per delle leggi collegate appunto a come funziona il nostro cervello in particolare pensate alla regola del 3x2 ecco il neuromarketing si è scoperto che il beneficio cerebrale di qualcuno che ti dice ti do un prodotto in regalo se ne acquisti altri due dal consumatore è percepito come maggior beneficio rispetto ad un commerciante che ti dice ti faccio il 33% di sconto a livello matematico stiamo parlando della stessa cosa eppure il neuromarketing ha scoperto che appunto il concetto del gratuito ha un peso molto più forte rispetto al concetto dello sconto per esempio ancora, cosa c'era prima del neuromarketing? c'erano le ricerche di mercato, ci sono ancora oggi è un mercato che funziona benissimo tra l'altro girano un sacco di soldi detto ciò vi faccio diciamo vi dico solo una piccola informazione cioè che l'80% dei prodotti che oggi vengono lanciati sul mercato e sono supportati da ricerche di mercato che ne hanno decretato il successo nel senso che la ricerca di mercato ti dice più o meno sì questo prodotto può essere e può avere successo questo prodotto non può avere successo ecco l'80% di tutti i prodotti che vengono lanciati sul mercato spariscono dopo un anno dal lancio quindi solo il 20% dei prodotti sopravvive e questo perché? e che cosa stiamo dicendo? che le ricerche di mercato non servono? assolutamente no stiamo dicendo che le ricerche di mercato sono utilissime servono a ridurre di molto il margine di errore quando si compiono degli investimenti in questo senso e quindi l'azienda sta decidendo di lanciare un prodotto però questa evidenza dell'80-20 ci porta appunto a voler indagare oltre quindi sicuramente le ricerche di mercato hanno efficacia ma probabilmente devono essere integrate da ulteriori studi David Ogilvy che è il pubblicitario probabilmente l'inventore della pubblicità dal 1900 ad oggi all'inizio 900 diceva già all'epoca quindi parliamo di inizio 900 diceva il problema del marketing è che le persone non dicono quello che pensano e non fanno quello che dicono questo per diciamo rafforzare ancora più il concetto che spesso quando i campioni di studio gli utenti sono sottoposti a dei test spesso non dicono la verità o dicono la verità che loro si aspettano che diciamo dall'altra parte dicono la verità che si aspettano dall'altra parte come se venissero giudicati nel momento nel momento della ricerca a questo punto diciamo entrando più nel vivo della storia del neuromarketing arriviamo alla teoria dei tre cervelli intorno agli anni 70 un famoso neuroscienziato Paul McLean teorizza appunto questa teoria il fatto che il nostro cervello si compone di tre parti che si siano sviluppate praticamente contemporaneamente all'evoluzione umana in maniera progressiva è una teoria che se diciamo approfondite il mondo del neuromarketing e tutti gli studi che ci sono sopra è una teoria che va per la maggiore e che trova ancora riscontri ancora oggi sostanzialmente McLean che cosa diceva? diceva che appunto il cervello umano durante la sua evoluzione si è sviluppato in tre step ad esempio il primo cervello che l'uomo ha sviluppato quindi quando tra virgolette era ancora una scimmia è il cervello rettiliano ed è così chiamato perché è quello che ci avvicina ai rettili e che cosa fa il rettile? il rettile è un animale che è molto istintivo quindi questa è la parte istintuale del nostro cervello appunto è un animale molto istintivo se deve mangiare mangia se ha fame sa che deve cacciare se sente un rumore si protegge o scappa ecco tutti i comportamenti diciamo molto molto istintivi considerate che in quest'area del cervello risiedono delle funzioni diciamo seppur molto semplici ma che assicurano la sopravvivenza dell'uomo ovvero la regolazione della pressione sanguigna la regolazione del respiro quindi ecco insomma è un'area del cervello umano che è molto importante per la sopravvivenza fisica dell'uomo ed è la parte diciamo diciamo istintuale dell'uomo è quella in cui nascono appunto gli istinti l'istinto di quando hai fame e quindi vuoi mangiare e i tuoi sensi soprattutto l'olfatto e il gusto si acuiscono e così via spero diciamo non sto vi anticipo non sto diciamo divagando però sono tutti concetti importanti per vedere quello poi che viene dopo e quindi concludendo il cervello rettiliano è il cervello che ci accomuna ai rettili è il cervello responsabile dei nostri istinti primordiali quindi appunto la sopravvivenza la procreazione e cose di quel tipo la seconda parte del cervello umano che si è sviluppata in un secondo momento è il cervello cosiddetto mammifero detto anche sistema limbico questa parte del cervello è importante perché è la sede dei nostri ricordi è la sede nella quale nascono le emozioni e di fatto noi del passato ricordiamo degli eventi che ci hanno coinvolto emotivamente sia in modo negativo che in modo positivo e soprattutto è l'area del cervello che ci distingue dai rettili i rettili di fatto non sono animali da branco nascono e poi fanno la loro vita noi siamo una delle specie in assoluto che ha il periodo di gestazione più lungo pensate al fatto che un bambino appena nasce poi insomma rimane nel nucleo familiare almeno fino a 18 anni cosa che nelle altre specie animali difficilmente accade quindi ecco questa area del cervello che è il cervello mammifero è responsabile anche del nostro essere sociali del nostro essere animali da branco e questo è un altro concetto molto importante infine il cervello superiore il cervello razionale è quello che si è sviluppato in ultima analisi ed è quello per il quale appunto ci distinguiamo poi sostanzialmente dagli animali dai mammiferi dai rettili ed è appunto la parte razionale del nostro cervello è la parte per la quale ci distinguiamo dagli animali nel senso che è grazie a questa sezione del cervello se noi abbiamo coscienza di noi stessi abbiamo coscienza del futuro siamo capaci di fare ipotesi se faccio questo allora succede quello e quindi se lo replico risuccede la stessa cosa ecco questa capacità di ragionare di prevedere di pensare al futuro viene proprio da questa parte del cervello qui che è la parte razionale dunque arriviamo al cervello rettiliano che abbiamo definito appunto un cervello istintivo il cervello rettiliano come abbiamo detto è un un cervello che fa quello per cui è stato programmato è un robot quindi come dicevo prima se ho voglia di mangiare mangio se sono stanco dormo i queen direbbero I want it all and I want it now cioè è un cervello che vuole tutto subito nel momento in cui nel momento in cui gli serve facciamo partiamo subito col primo esempio pratico il tema è questo dal momento che appunto il cervello è costituito da queste tre sezioni che è l'istintivo l'emotivo e irrazionale l'errore che si fa più spesso e che oggi si fa in comunicazione è quello di voler parlare esclusivamente al cervello razionale è la cosa più semplice è quella che ci riesce meglio e appunto perché in passato non ci siamo mai preoccupati di voler andare a parlare agli altri cervelli probabilmente neanche li conoscevamo ma sono in realtà molto importanti perché sono sotto il livello di coscienza e sono quelli che effettivamente scatenano l'azione dell'utente quindi l'importante quello che appunto vi voglio trasferire in questo webinar è che è importante parlare a tutti e tre i cervelli e però bisogna sapere come farlo perché ogni cervello come abbiamo visto risponde a delle logiche molto diverse in particolare e tornando al concetto di cervello rettiliano istintivo che vuole tutto subito che lo vuole ora immaginatevi a fare una ricerca online perché dovete comprare un prodotto mettiamo un libro perché tanto è l'esempio che vi farò vedere tra poco allora che cosa fate avete già scelto il libro ve ne hanno parlato bene siete decisi nell'acquistarlo l'unica cosa che vi manca è trovare il sito che lo vende e comprarlo arriviamo alla pagina di Amazon e diciamo vi chiedo di in realtà soffermarvi poi la pagina di Amazon è molto semplice ha vari elementi in questo caso è la pagina di acquisto di questo libro di Martin Lindstrom molto famoso che si chiama Neuromarketing però appunto vi chiedo di soffermarvi su degli aspetti importanti la prima cosa che vedo quando entro all'interno della pagina è il libro quindi l'immagine del prodotto a sinistra grande nel caso in cui stessimo comprando uno smartphone probabilmente ci sarebbero molte più foto un libro non ha bisogno di molte fotografie per essere spiegato mentre uno smartphone te lo fanno vedere da tutte le angolazioni in tutti i colori in tutte le funzionalità quindi ci sono più foto in questo caso è solo un libro però cosa salta subito all'occhio di questa pagina come dicevo il prodotto il prezzo ora non so se scusate con il mouse riesco a se vabbè a farvelo vedere comunque abbiamo detto il prodotto il prezzo che troviamo anche qui sulla destra sul colonna di destra e poi altre due cose che risaltano immediatamente sono l'aggiungere al carrello e l'acquista ora se io conosco già Amazon non mi preoccupo del vedere se è un un e-commerce affidabile se ha delle recensioni negative insomma lo conosco già funziona bene da delle super garanzie quindi in questo caso io l'unica cosa che farò è cercare il prodotto sulla barra di ricerca lo trovo e guardo la copertina guardo il prezzo mi va bene acquista ora quindi questo per dirvi cosa che la pagina di Amazon risponde ed è strutturata per minimizzare le scelte del diciamo del consumatore cioè Amazon potrebbe darti tantissime informazioni di qualunque tipo la velocità della consegna le tipologie di di carte di credito accettate le garanzie in realtà ti dà tre informazioni in croce e te le fa vedere bene e sono appunto il prodotto il nome del prodotto il prezzo e l'acquista ora quindi questa pagina risponde appunto ad un meccanismo di funzionamento del cervello istintivo il cervello che vuole tutto e lo vuole immediatamente che cosa ci portiamo di importante diciamo di concetti poi generali collegati al fatto di voler parlare al cervello rettiliano allora scusate ma sposto la paginetta di qua ok così leggo tutto anche io cosa ci portiamo dal cervello rettiliano ci portiamo sicuramente che è un cervello che vuole tutto e subito e l'ho detto almeno quattro volte vuole tutto e subito significa che non è un cervello che non è è quella parte di noi che in quel momento vuole leggere vuole avere informazioni vuole esplorare è un cervello che appunto vuole fare quello per cui è nato quindi la prima indicazione che vi do e come dicevo non solo relativamente alla costruzione di mail ma in generale a livello di comunicazione è quello di creare nelle vostre pagine nelle vostre landing page nelle vostre newsletter pochi contenuti ma che siano quelli giusti quelli giusti per il target che sto raggiungendo nel senso che poi l'idea non è quella l'idea è quella di cercare di raggiungere un determinato target con i contenuti giusti e qui arriviamo al secondo punto cioè il dare le informazioni giuste alle persone giuste nelle nostre comunicazioni dovremmo cercare di segmentare al massimo i nostri contatti o il nostro parco di potenziali acquirenti in modo tale da individuare perfettamente quale sia il target al quale ci stiamo rivolgendo e quindi capire anche quel target che cosa si aspetta da noi in termini di comunicazione in termini di prodotto un'altra cosa importante è che la comunicazione deve essere semplice spesso mi trovo a vedere pagine o anche newsletter chilometriche piene di testo piene di bottoni di link che potrei fare qualunque cosa alla fine penso che concordate con me che non fate niente cioè vi siete già stancati solo guardando la newsletter vi siete già stancati di vederla prendete e la chiudete quindi anche in questo senso se volete fidelizzare i clienti anche le comunicazioni devono essere estremamente chiare semplici da comprendere semplici ovviamente diciamo per il vostro target non per tutte le persone e infine l'ultimo take away relativo al cervello istintivo è che appunto il cervello rettiliano è che è un cervello visivo immaginate l'uomo della caverna che la mattina si sveglia e ha una fame bestia e quindi acquisce tutti i sensi soprattutto la vista per poter appunto individuare immediatamente la preda nella boscaglia ecco il cervello rettiliano è un cervello molto visivo si basa molto sulla visibilità su ciò che vede per cui è importante far vedere il prodotto non solo creare contenuti pieni di testo ma se avete l'occasione e diciamo nel mercato di produzione è molto più semplice diventa un po' più difficile nel mercato dei servizi però se c'è l'occasione fate vedere immagini ma anche se siete nel discorso diciamo nel mercato di vendita dei servizi è molto importante veicolare anche dei contenuti visivi all'utente fossero anche non so l'immagine del palazzo dell'azienda per dare un senso di professionalità però è importante veicolare anche contenuti visivi passiamo al cervello mammifero che è appunto il cervello come vi ho detto prima nel quale sono archiviati i nostri ricordi soprattutto è il cervello responsabile del nostro essere animali sociali animali da branco ed è la sede delle emozioni sia negative che positive cosa dire sul cervello mammifero direi di passare alla slide successiva allora partiamo appunto con come in comunicazione vengono suscitate le emozioni positive allora partiamo da un presupposto perché appunto nel cervello mammifero sappiamo che è un cervello che risponde alle emozioni e quindi la persona sarebbe maggiormente interessata se la coinvolgiamo dal punto di vista emotivo sarà più interessata a guardare la nostra pubblicità ma sarà anche più interessata ovviamente ad acquistare il nostro prodotto e quindi diciamo che il tema è quello di cercare di andare a stimolare delle emozioni nell'utente che raggiungiamo nel target nei nostri destinatari email emozioni che spingano l'utente all'azione ad esempio Jonah Berger che è un professore di un'università americana ha scritto il libro tra l'altro molto interessante si chiama contagioso in cui spiega appunto tutti i trucchi del perché funziona il passaparola comunque sostanzialmente Jonah Berger nel suo libro spiega che ci sono vari tipi di emozioni e non tutte generano un'azione quindi lui divide tra emozioni positive e negative ad alta eccitazione ed emozioni positive e negative a bassa eccitazione ad esempio la tristezza è un nostro stato d'animo che spesso non ci spinge all'azione e quindi è un'emozione negativa a bassa eccitazione la rabbia invece è un'emozione negativa ad alta eccitazione che ci spinge a fare qualcosa quindi il tema è cercare di capire quali sono queste emozioni positive e utilizzarle all'interno delle nostre comunicazioni in questo esempio particolare che sembra un'immagine un po' sbiadita in cui è stata piastricciata con dei colori no in realtà è un test appunto in cui è stato utilizzato il sistema dell'eye tracking ovvero è il sistema che permette di capire dove si poggia lo sguardo dell'osservatore e le aree rosse sono le aree sulle quali appunto lo sguardo dell'osservatore si sofferma più spesso e per più tempo quindi in questo caso l'osservatore che è stato sottoposto a questa comunicazione promozionale se avete capito insomma come ve l'ho spiegato capirete che il suo sguardo si è soffermato principalmente sullo sguardo del bambino sulla faccia del bambino ma molto meno sul messaggio che veniva veicolato che è quello che vedete sulla destra quindi la parte rossa è la zona nella quale si è concentrata principalmente lo sguardo dell'utente la parte verde invece è quella in cui lo sguardo si è andato un po' a perdere non ha diciamo che è una zona del commercial che non ha suscitato interesse mettiamola così in questo caso perché parlo di suscitare emozioni positive ho usato in questo caso è un esempio molto molto semplice il fatto di usare bambini usare una parola brutta però passatemi il termine il fatto di usare bambini immagini di bambini nella pubblicità sia che si tratti di una pagina stampata o che si tratti di uno spot televisivo il bambino è un elemento catalizzante a tutte le età è un bambino che suscita è un elemento che suscita interesse e spinge le persone a guardare la pubblicità se c'è un bambino è più probabile che una persona osservi con più attenzione la pubblicità quindi la prima cosa importante è qui non solo che stiamo utilizzando un elemento che consente di appunto suscitare un'emozione positiva e di destare interesse ma stiamo utilizzando una figura umana e questo è molto importante guardate la differenza è lo stesso diciamo lo stesso test stessa immagine ma in questo caso la figura umana il bambino sta osservando il messaggio guardate come cambiano anche guardate come cambia l'interesse degli occhi dell'osservatore che sta guardando questa pubblicità è vero che all'inizio si sofferma sul bambino ma poi ed è questa diciamo la fase cruciale mima quello che fa il bambino lo imita lo imita e quindi guarda che cosa sta guardando il bambino il bambino sta guardando il messaggio pubblicitario e quindi l'osservatore guarda il messaggio pubblicitario quindi in questo caso qual è il messaggio importante che ci portiamo il fatto che se utilizziamo delle figure umane all'interno della comunicazione e vogliamo concentrare l'attenzione su un particolare messaggio una particolare call to action o bottone o appunto su una particolare sezione dell'email che contiene una promozione vogliamo essere super sicuri che l'utente di tutta l'email veda quel punto lì ecco dobbiamo usare figure umane che interagiscono col messaggio e più avanti troviamo anche altri esempi questo è un altro esempio in particolare appunto è uno shampoo sun silk anche in questo caso quello che vedete è che appunto sta utilizzata una donna che guarda in camera quindi non guarda il prodotto ma guarda noi e che cosa succede in questo caso che gli occhi dell'osservatore si sono soffermati molto sulla claim in alto a sinistra wake up the red in your hair e poi si sono soffermati sulla donna che guarda in camera come per osservarla la stessa pubblicità con la differenza che la donna in qualche modo sta interagendo con il prodotto o meglio lo sta semplicemente guardando ma siccome vi ho spiegato che siamo animali sociali che tendiamo ad imitare i comportamenti dei nostri simili in questo caso troviamo all'interno del commercial una donna che è un nostro simile quindi un elemento umano nel quale ci rivediamo e che per di più sta guardando il prodotto e quindi siamo portati anche noi come osservatori a cercare di capire che cosa sta guardando lei ed è per quello che appunto questa pubblicità è molto più efficace perché appunto come vedete l'utente si è concentrato prima sul claim poi sicuramente ha guardato la ragazza la ragazza sta guardando il prodotto il prodotto quindi anche viene visto dall'osservatore qui ci sono altri esempi in realtà sono esempi tratti da landing page piuttosto che siti web quindi che cosa in questo caso che cosa succede che c'è un utente che sta indicando un form anche in questo caso è semplice immaginare che gli occhi dell'osservatore si spostino su quella parte dello schermo in quest'altro esempio c'è una ragazza anche qui parliamo di una landing page c'è una ragazza che guarda un form perché diciamo ho fatto due esempi con il form di contatto perché di fatto il form è uno dei metodi principali che vengono utilizzati online per generare nuovi contatti è chiaro che all'interno di una landing page sia l'elemento più importante non a caso i bottoni nei form hanno dei colori sgargianti o comunque hanno dei colori che risaltano rispetto a tutto il resto della comunicazione in questo caso sempre eseguendo lo stesso esempio di prima c'è una ragazza che guarda il form e quindi l'osservatore è stimolato a maggior ragione a guardare verso il form allora prima vi ho parlato di come stimolare le emozioni positive però capiamo in realtà è importante capire anche come stimolare le emozioni negative e soprattutto come lo sfruttiamo questo concetto che il cervello mammifero ci fa essere degli animali sociali e qui ci sono due punti il fatto di diciamo partiamo da un assunto partiamo dal fatto che essendo animali sociali guardiamo molto anzi guardiamo sempre quello che fanno gli altri e che vogliamo essere rassicurati perché succede questo perché siamo animali ci importa molto di vedere gli altri che cosa pensano di noi ma ci importa anche vedere molto che cosa fanno gli altri in modo tale che noi possiamo comportarci di conseguenza questo accade la maggior parte delle volte in assenza di informazioni vi faccio un esempio semplicissimo io quando vado al mercato il sabato non sono esperto di qualità della verdura o della carne e non esiste neanche un trip advisor che mi permetta di scegliere il banco migliore del mercato allora qual è la tecnica ancestrale che utilizzavano i nostri nonni ma utilizziamo anche noi guardiamo cosa fanno gli altri perché perché in mancanza di informazioni presumiamo che il comportamento degli altri sia quello corretto a volte questa cosa porta a degli errori nella maggior parte delle volte funziona come nel caso di me che vado al mercato ma anche nel caso in cui vi trovate in una città straniera dovete mangiare non conoscete i ristoranti del luogo beh la cosa più semplice è andare in giro e vedere quelli che sono più pieni e sicuramente andate andate a colpo sicuro quindi il fatto che guardiamo molto quello che fanno gli altri è che abbiamo bisogno di essere rassicurati e qui arriviamo alla domanda che ho fatto in questa slide vi siete mai chiesti a cosa servono le recensioni? parliamo delle recensioni che trovate su Amazon delle recensioni che trovate su TripAdvisor delle recensioni che trovate su Booking le guardiamo tutti le guardiamo tutti perché perché sostanzialmente appunto ci importa in mancanza di informazioni siamo molto attirati da quello che pensano che pensano gli altri non per il fatto che ci manca l'informazione e e quindi abbiamo bisogno di ulteriori informazioni ma per il fatto che diamo fiducia agli altri in quel caso con le recensioni noi di fatto diamo fiducia a delle persone che non conosciamo perché le reputiamo delle persone simili a noi delle persone che fanno parte del nostro stesso gruppo quindi se tot utenti hanno detto che quel prodotto è buono io questi utenti non li conosco però mi fido che quel prodotto è buono perché non hanno alcun interesse a fare una recensione positiva poi su Amazon succedono delle cose strane in questo senso però passatemi per buono l'esempio e qui arriviamo ad un altro elemento della pagina di Amazon che è appunto la parte delle recensioni anche in questo caso ci troviamo nella pagina di acquisto ho nascosto tutto ad eccezione delle recensioni proprio per farvi capire che Amazon non solo parla al cervello istintivo come abbiamo visto prima ma parla anche al cervello mammifero quello che ha bisogno di rassicurazione quello che vuole vedere quello che fanno gli altri chi ha comprato cosa e che cosa e qual è la sua esperienza con quel con quel prodotto questo è un altro esempio di booking.com lasciate perdere diciamo tutta la parte relativa al nome dell'albergo alla super richiesta e a quant'altro anche in questo caso siamo sulla pagina della camera ci piace però non siamo troppo convinti ecco ci sono 489 recensioni positive le trovate in alto a destra posso andare a a leggermele appunto per vedere che cosa dicono gli altri utenti che hanno pernottato in questo albergo suscitare le emozioni negative allora suscitare le emozioni negative che cosa significa l'atto pratico significa che in qualche modo dobbiamo mettere i nostri destinatari a disagio perché mettere i nostri destinatari in una posizione scomoda in una posizione di disagio scatena il senso di urgenza scatena la voglia di fare qualcosa vi faccio un esempio che è legato al mondo delle assicurazioni ma poi vedremo anche con degli esempi più semplici le assicurazioni vita per esempio sfruttano questa tecnica per vendere i loro prodotti c'è un vecchio commercial di Genial Lloyd era una specie di cartone animato in cui c'erano delle scene di vita quotidiana c'era una donna che camminava sulla strada e da un balcone gli cadeva sul marciapiede vicinissimo a lei un vaso e quasi la colpiva e poi c'era un'altra scena in cui invece all'interno di un ambiente domestico di una casa di una famiglia andava in cortocircuito l'impianto elettrico quindi in realtà l'azienda che cosa stava stimolando con quella pubblicità l'azienda stava stimolando stava cercando di mettere a disagio le persone le persone sono molto più diciamo stimolate a fare qualcosa quando sentono che stanno per perdere qualcosa piuttosto che è più facile stimolarle tra virgolette minacciandole che perderanno qualcosa rispetto a stimolarle dicendogli che possono comprare qualcosa con tutti i benefici che ne derivano ok in questo caso il punto diciamo centrale della pubblicità di Genialoide che sta mostrando seppur con dei cartoni animati all'utente che nella vita quotidiana ci potrebbero essere delle situazioni scomode difficili da affrontare anche da un punto di vista finanziario e quindi l'assicurazione è la soluzione e qui si fa un po' leva su una cosa brutta che però in pubblicità funziona molto cioè il fare leva sulla paura viene utilizzata la paura anche molto in campagna elettorale e poi di fatto i risultati alle urne si vedono comunque in questo caso appunto il messaggio che volevo trasferirvi è il fatto di mettere a disagio le persone disagio non necessariamente impaurendole vediamo anche come si può creare questo disagio fittizio nelle persone per spingerle all'azione a cliccare su un bottone o acquistare un prodotto allora torniamo a ormai lo conosciamo da sempre l'avete visto tre volte in questa presentazione la pagina di Amazon ho evidenziato una parte ben precisa vuoi riceverlo domani ordina entro due ore e quarantadue e io consumatore dico cavolo se non lo compro entro due ore e quarantadue chissà poi quando me lo spediscono allora subito clicco su aggiungi al carrello questo è un modo carino che usa Amazon per dirti appunto sbrigati per scatenare il senso di urgenza è abbastanza velato nel senso non è neanche troppo efficace perché ci sono ci sono modi migliori come per esempio fa Booking che ora vi faccio vedere Booking per esempio vi scrive negli ultimi dieci minuti due utenti hanno visto questa struttura per le tue stesse date e più sotto solo una camera rimasta sul nostro sito e che cosa vi fa pensare a voi quando dovete prenotare una stanza e siete lì e siete già in ritardo con le prenotazioni dell'aereo e tutto il resto a me avrebbe da pensare anzi mi viene da pensare cavolo devo prenderla immediatamente perché se mi piace ha delle ottime recensioni la stanno guardando in due già e ne è rimasta una sola ecco questa è la base un po' di quello che fanno un po' tutti cioè il fatto di scatenare il senso di urgenza come si scatena? si scatena in questo modo si scatena mettendo dei countdown all'interno delle comunicazioni si scatena dicendo che c'è una disponibilità limitata del prodotto affrettati subito ecco sono tutte cose che appunto mettono l'utente in discussione per poter agire che cosa ci portiamo dal cervello mammifero come abbiamo detto per le nostre comunicazioni l'utilizzo di figure umane e soprattutto se decidiamo di inserire figure umane facciamole interagire con il messaggio che vogliamo veicolare in modo tale che l'attenzione visiva dell'utente non vada a finire solo sulla figura umana ma vada a finire anche sul messaggio che vogliamo veicolare utilizziamo recensioni e testimonianze molti lo fanno sul sito molti non lo fanno perché non capiscono l'utilità ora conoscete anche l'utilità dell'utilizzo di recensioni e testimonianze stimolare le emozioni negative come abbiamo visto non è necessario dire all'utente compra questo prodotto perché avrai questi benefici possiamo anche semplicemente dirgli guarda che ogni anno cadono 500.000 vasi dai terrazzi proteggiti con un'assicurazione vita e in ultima diciamo ipotesi però ecco dal punto di vista digitale viene un po' difficile anche da applicare poi entreremo in un discorso molto più ampio quello di far toccare con mano il prodotto sia che si tratti di una prova gratuita sia che si tratti di mostrare un video in cui il prodotto viene scartato ma lì entriamo tutti in un altro ambito del neuromarketing che è quello collegato ai neuroni specchio e qui per esigenze diciamo di tempo non lo trattiamo infine questo probabilmente è il più corto diciamo la sezione più corta del webinar quella che parla del cervello superiore razionale il cervello superiore è appunto quello che ci distingue dall'animale ed è appunto la parte razionale del nostro cervello ecco in questo caso che cosa dobbiamo fare? beh sicuramente la nostra parte razionale del cervello risponde molto bene all'utilizzo dei numeri quindi se avete numeri bisogna metterli all'interno delle comunicazioni siamo la prima azienda in Italia per questo tipo di servizio l'anno scorso 4 utenti su 5 ci hanno consigliato per miglior servizio e poi ovviamente nelle comunicazioni parlare di benefici funzionali quindi il vostro prodotto ha il 30% di grassi meno oppure il vostro prodotto permette di fare il doppio del lavoro in metà tempo ecco quelle sono tutte cose utili importantissime nella comunicazione ma che vanno a stimolare solo ed esclusivamente la parte razionale del cervello ricapitolando e anzi arrivando appunto al cuore del webinar visto che siamo anche nei tempi quindi andiamo a vedere appunto come stimolare dal punto di vista come migliorare le nostre campagne di email marketing ragionando con ciascuno dei tre cervelli nel caso del cervello rettiliano come abbiamo visto bisogna creare delle email pulite essenziali con i contenuti giusti e poi ho scritto quelli che servono in questo senso cioè l'email non deve essere piena di testo è inutile piuttosto create dei testi piccoli con una call to action che rimanda ad un approfondimento se l'utente è interessato andrà a leggerseli spesso quando le persone leggono le email non hanno non hanno tempo non hanno neanche voglia soprattutto quando vedono un'email molto lunga spesso diciamo sortisce l'effetto contrario la cancellano o non la leggono affatto parliamo di email commerciali ovviamente non di email lavorative altra cosa importante segmentare database per raggiungere le persone veramente in target nel mondo dell'email marketing in passato si è diciamo un po' il mondo dell'email marketing si è rovinato perché le persone hanno cominciato a fare comunicazione in maniera massiva inviando su dei database che magari non avevano su persone che neanche avevano interesse a comprare quel particolare macchinario industriale perché magari era una casalinga di voghera e quindi non era interessata a quei prodotti servizi ecco il tema di segmentare il database per fare in modo che i nostri messaggi arrivino dritti alle persone giuste al target che dobbiamo raggiungere al target che sappiamo essere interessato per quel prodotto e non solo è una buona norma segmentare il database ma renderà le nostre campagne email ancora più efficaci perché stiamo parlando con delle persone e andiamo a parlare a delle persone che sono già predisposte a ricevere quel messaggio che probabilmente stanno aspettando quel messaggio o comunque hanno a che fare lavorativamente parlando come stimolare le aperture usare un oggetto ingaggiante anche in questo caso nelle vostre email dopo che avete selezionato il target ragionate di quale sia davvero il bisogno ultimo di quella persona che cosa si aspetta di ricevere da voi quali sono le informazioni che gli potrebbero interessare a quel punto costruite un oggetto che vi permetta di appunto ingaggiare meglio stimolare l'interesse stimolare l'apertura dell'email usare un linguaggio semplice ed essenziale e infine usare le immagini perché il cervello rettiliano è molto visivo come abbiamo visto prima relativamente al cervello mammifero abbiamo detto utilizzare le figure umane farle interagire con il messaggio utilizzo di recensioni e testimonianze fosse anche un link che mettete all'interno dell'email con scritto leggere testimonianze delle persone che hanno lavorato con noi un'altra cosa importante è mettere scomodi gli interlocutori sia in senso positivo che in senso negativo quindi stimolare le loro emozioni e soprattutto stimolare il loro senso di urgenza attivarli a fare qualcosa quindi il ricorso a strumenti come il countdown il ricorso al questo prodotto è limitato nel tempo e quant'altro infine per quanto riguarda il cervello superiore il cervello razionale come abbiamo appena visto nel nostro email sicuramente non possono mancare numeri perché parlare con i numeri è molto più semplice che spiegare come ben sapete nel business è molto più semplice spiegare le cose con i numeri che non con testi iperboli parafrasi e cose del genere utilizzo di claim quindi messaggi chiari che dicano delle cose precise nel largo consumo per esempio va molto senza olio di palma meno 30% di grassi senza grassi aggiunti e cose di quel tipo nel mondo dei servizi magari potrebbe essere ottenere vi facciamo ottenere il doppio del risultato con la metà del tempo ecco in quel senso stimolare appunto utilizzare delle argomentazioni che ragionino con il cervello razionale allora io ho finito tendenzialmente la mia presentazione e piuttosto ora aspetto le vostre le vostre domande se ne avete soprattutto Stefano vieni mi in aiuto no Paolo sono Michele la versione più giovane ah Michele ok Fabrizio dice ma in Italia esiste la risonanza magnetica funzionale a scopo di neuromarketing allora in realtà questi studi vengono fatti principalmente all'estero io ti dico sinceramente come informazione sull'Italia non lo so so che c'è in Spagna sicuramente c'è negli Stati Uniti però in Italia in questo momento non sono sicuro che ci sia non è un'informazione che ho Claudio invece ha scritto una domanda che non so se sono io a non capirla te la leggo comunque dimmi tu dice consigli su test di impatti sui risultati consultabili vedo che non sono l'unico a non capirla allora magari invito Claudio a riscriverla se riesce così possiamo dare una risposta Alessandra nel frattempo scrive quale dei tre cervelli è da tenere più in considerazione nella comunicazione uno particolare o tutti e tre no allora c'è un tema legato ai tre cervelli il fatto che c'è una branca del neuromarketing che pensa di dover andare a vabbè non funziona Daniela ti sentiamo ok ok niente dicevo c'è una parte di diciamo di coloro che studiano neuromarketing che pensano che si debba esclusivamente andare a diciamo intercettare quelli che sono andare a stimolare solo ed esclusivamente il cervello istintivo quello rettiliano quello che abbiamo visto all'inizio in realtà secondo me è un'occasione persa quella di andare a stimolare un solo cervello per volta quando possiamo stimolarli tutti e tre insieme ma semplicemente per il fatto che tutti e tre i cervelli rispondono a bisogni diversi come abbiamo visto dal punto di vista diciamo del voler ingaggiare l'utente sicuramente il cervello mammifero e il cervello razionale diciamo sono più ingaggiabili da questo punto di vista e quindi bisognerebbe concentrarsi su quello se invece l'esigenza è quella di far compiere ad un utente un'azione quanto più veloce possibile allora sicuramente vale molto più la pena ragionare sul cervello istintivo su come semplificare la comunicazione all'interno della pagina se il vostro obiettivo è quello di convincere l'utente a cliccare su un bottone o a compilare un form probabilmente diciamo che vale la pena concentrarsi su quali siano i modi per portarlo più velocemente al click o alla conferma diciamo alla compilazione del form però in linea di massima diciamo che una buona comunicazione parla a tutti e tre i cervelli giusto per concludere parla a tutti e tre i cervelli perché sarebbe uno spreco non parlare a tutti e tre i cervelli quando si tratta di convincere qualcuno della bontà dei nostri prodotti servizi Marco ti chiede interessante l'accessibile ci puoi mostrare quella che per te è stata la tua più completa email per marketing? Allora in questo momento no e vi spiego anche il perché perché tra l'altro questo webinar sono stato molto contento di farlo ma con risorse limitate nel senso che molto materiale ce l'ho al lavoro quindi in questo momento proprio non te la posso far vedere sì c'è da dire che questo webinar è stato organizzato ieri esatto esatto e nelle 24 ore loro si sono resi disponibili a darci offrirci il loro contenuto e in più stiamo ragionando su qualcosa da mettere a disposizione a voi spettatori in modo tale da cercare di offrirvi un servizio e offrirvi maggiori possibilità per poi fare email marketing nei prossimi giorni comunque vi invieremo delle novità di newsletter e pubblicheremo comunque delle novità sui social per cui tenetevi aggiornati per non perdere ti faccio magari un'ultimissima domanda Yuri ti chiede il colore del pulsante della CTA deve variare in base all'azione richiesta? no diciamo che però lì entriamo nel a me piace a me non piace c'è tutta una logica anche sui colori c'è chi dice che il rosso viene ricordato meglio è più impattante in realtà io la faccio molto più semplice il colore della CTA deve variare in base al background in base alla pagina se la CTA è la cosa più importante della pagina deve per forza di cose avere un colore che sia completamente diverso dal resto della pagina se per esempio prendiamo una pagina che è sul celestino una buona CTA potrebbe essere tranquillamente viola non varia in base alla diciamo alla tipologia della CTA c'è poi anche un discorso da fare se hai un brand hai un color code hai un certo layout quindi diciamo che il tema è sempre quello di cercare di mantenersi coerenti con il colore del proprio brand assolutamente sì sono 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 d'accordo con te abbiamo ancora quattro minuti per cui magari ne approfitto per qualche altra domanda ti faccio una domanda che è più da copy però magari mi serve una risposta il titolo di una mail di marketing è importante come impostarlo per attirare l'attenzione e non farlo accestinare? parliamo di un titolo parliamo dell'oggetto presumo perché il tema è sempre quello di stimolare l'apertura attorno un po' a quello che dicevo prima diciamo che non esiste una regola esiste una regola generale quando costruite gli oggetti e la regola generale non è quella di usare dei trucchetti del tipo apri subito pacco in attesa o quelle cose che troviamo nella cartella spam la regola generale è conoscere le persone alle quali stai inviando il messaggio e capisco che non è una cosa semplice che non è una cosa banale e che a volte viene con il tempo perché nel nostro database spesso abbiamo un sacco di persone e abbiamo anche un sacco di informazioni su queste persone però non le abbiamo tutte nello stesso posto e quindi ciò ci impedisce di segmentare il database in maniera precisa perché parlo di segmentare il database perché una volta che io ho creato per esempio il segmento di coloro che all'interno del mio shop hanno comprato uno smartphone di un certo tipo nulla mi vieta il giorno dopo di inviargli una comunicazione promozionale con oggetto guarda cover 30% di offerta cover per telefonino abc vattela pesca 30% per te ok quell'oggetto secondo voi stimola l'apertura oppure no considerando che la persona ha acquistato quel cellulare il giorno prima ovviamente l'oggetto deve ragionare con il bisogno quindi se volete stimolare l'apertura dovete innanzitutto si presume che le vostre email rispondano a dei bisogni le inviate perché gli utenti hanno un fabbisogno di conoscenza sia che si tratti di una promozione o di una newsletter per dare delle informazioni però si presume che rispondano ad un bisogno di conoscenza e quindi diciamo da questo ragionamento poi deriva la scelta dell'oggetto capito grazie mille grazie mille Paolo ti stanno ringraziando anche in chat ti hanno fatto un po' di complimenti per cui mi associo al pubblico grazie a voi quanti a farti le domande in via privata se visto che c'è un'ora al quale non siamo riusciti ovviamente a rispondere per ragioni di tempo ti ringrazio quindi per essere stato qui con noi nonostante il poco preavviso e invito tutti quanti gli spettatori a rimanere in attesa per le novità che stiamo per lanciare proprio insieme a voi di Fondland perfetto grazie a voi buona giornata e buona continuazione ciao ciao